Un richiamo ai valori, all'unità del Paese, alla nuova generazione parlamentare, al percorso delle riforme, alla lotta, alla mafia, alla criminalità organizzata. Era il Presidente che ci aspettavamo, sarà un grande Presidente, garante della solidarietà del nostro Paese e dei valori reali che io in passato da Presidente del Senato ho avuto modo di verificare girando il Paese. Il nostro Paese è un grande Paese.